Ragazzi miei buongiorno a tutti, perdonatemi se tante volte non faccio il video del dopo partita subito dopo la partita preferisco farlo l'indomani, preferisco parlare a mente lucida ma soprattutto a volte veramente non ho neanche la lucidità mentale per poterlo fare e neanche il tempo, nel senso che magari mi trovo da un'altra parte, nel senso che magari sto vedendo la partita in un pub sto vedendo la partita allo stadio, sto vedendo la partita, sto vedendo la partita e semplicemente non mi va di fare i video perché come voi sapete per me questo al momento non è un lavoro, quindi è chiaro che rispetto ad altri magari cerco di fare il video quando ne ho voglia ragazzi, parliamoci chiaro, quando ne ho voglia cioè non è una cosa che deve essere oddio questa cosa spasmodica della partita che devo fare il video perché se no oddio che fa, no, io non sono così ma non sarò così forse neanche se dovessi percepire denaro ve lo assicuro, magari sì ci metti un po' più di impegno però io penso che la passione si debba portare in scena soltanto quando si ha la vena artistica ecco, io in questo momento mi sento di fare il video e lo sto facendo allora, siamo andati a Pelsen ieri, no? allora c'è stata Victoria, Pelsen Inter perfetto ho sentito parlare di tutto e di più ho sentito dire di tutto e di più ho sentito parlare tutti e ho sentito dire, oh, e che vuoi che sia? quella è una passeggiata stavate giocando con Victoria Pelsen che vuoi che sia? e le passeggiate le sappiamo fare tutti poi vai a vincere con le grandi ma perché? Qualche italiana ha vinto lì qualche squadra italiana che è andata lì perché ne sono andate le squadre italiane e hanno vinto? no, ricordatevi sempre una cosa che le partite vanno vinte sul campo le partite sono sempre a sé tante volte vedete, che ne so, l'Atalanta pareggiare col Milan dopodiché la domenica successiva con l'Empoli per dire un esempio, ne prende due e perde la partita la stessa cosa è avvenuta con, non lo so, altre partite ma per farvi un esempio per farvi capire che non c'è partita facile in questo campionato italiano e in Champions League soprattutto in Champions League soprattutto in Champions League questo è quello che vi dovete mettere in test è chiaro che rispetto a un Barcellona e un Bayern Monaco è più semplice la partita cioè non ci prendiamo in giro è normale, questo no però è anche vero che tu devi entrare in campo e la partita la devi vincere tanto è vero che se vi siete accorti l'Inter spreca tantissimo sempre in attacco ma questo è da anni che abbiamo di questi problemi sono almeno tre anni che abbiamo circa che abbiamo di questi problemi Zeko mi è piaciuto tanto ha fatto un gran bel gol è stato sempre in partita con la testa ha lottato su tutti i palloni quindi bravo Correa ragazzi io non voglio sparare sulla Croce Rossa ma purtroppo in questo anno che con noi non ci ha dimostrato di essere il giocatore di valore che tutti pensavamo fosse io spero sempre da interista ovviamente che Correa si riprenda che Correa faccia vedere le sue qualità i suoi valori e tutto quello che è poi il suo bagaglio tecnico perché non penso che uno da bravo tecnicamente è diventato tutto ad un tratto un brocco detto questo perché uno deve fare sempre o meglio io faccio sempre il commento tecnico della singola partita e non vado a cercare altre cose a cercare altre cose mi è piaciuto Acerbi mi è piaciuto il suo comandare alla grande la difesa mi è piaciuta la sua personalità ma questa la conoscevamo già insomma da un pezzo mi è piaciuto per come è stato in campo nonostante fossero tre mesi che lui praticamente non faceva più una partita da titolare forse anche di più mi piace la sua schiettezza lasciando perdere tutto quello che è successo che non si dimentica ma io personalmente voglio il bene dell'Inter a me di fare polemiche inutili e sterili adesso non mi serve voglio il bene dell'Inter ha fatto il bene dell'Inter è stato bene in campo bisogna ovviamente vederlo con una squadra di una portata ovviamente di una caratura maggiore però al momento devo dire la verità lì al centro sta bene sta bene non toglierei mai un De Vrij al momento nonostante sia il De Vrij la brutta copia del De Vrij che abbiamo visto anni fa ma fino a due anni fa la bruttissima copia di De Vrij io penso che lui sia stato più in gamba della bruttissima copia di De Vrij se analizziamo ovviamente il livello tecnico a me sinceramente ad oggi della persona in sé per sé poco mi interessa nel senso che a me interessa l'Inter che vinca l'Inter dico la verità e quando quando hanno detto la formazione iniziale dell'Inter io la prima cosa alla quale ho pensato è stata ma dico ma si può affrontare una Champions League come se fosse una Coppa Italia con una formazione comunque con acerbi dietro togliendo De Vrij con Correa e Zeco lasciando Lautaro fuori insomma un po' di idee me le sono fatte ovviamente senza esagerare chiaro però comunque me le sono fatte delle idee e vi dico una cosa l'Inter ha ottenuto il massimo risultato con il minimo sforzo pensando ovviamente alla partita di Udine che è fondamentale ragazzi miei perché non ci prendiamo in giro cioè tu vai a Udine con una squadra che non perde da quattro partite che ha fatto un filotto di quattro partite consecutive di vittorie e soprattutto che è informissima fisicamente e anche mentalmente perché ovviamente come si dice sempre vincere aiuta a vincere quindi è chiaro che ha avuto ragione Inzaghi e bisogna dargliene merito e su Onana io non ho nulla da dire perché secondo me è un grandissimo portiere è una persona veramente di un carisma e di una leadership assurda e quindi credo che non ci sia neanche da commentare sono felice che sarà il prossimo portiere dell'Inter prossimamente nel senso il prossimo anno che sarà lui il titolare il titolare fisso dell'area squadra e basta per il resto bisogna dare merito a chi ha merito e ieri sera hanno vi ripeto ottenuto il massimo risultato con il minimo sforzo e questa cosa è importante soprattutto per questo tour de force che ci aspetta prima della pausa del mondiale diciamo adesso come dice Acerbi questa sosta della nazionale ci deve far ripartire perché se ci avete fatto caso non so se avete visto la sua intervista lui dice chiaramente che un problema fisico ce l'hanno nel senso un problema di stanchezza dovuta alla preparazione esiste ma questo io me l'ero posto il quesito sono sincera ho sempre pensato che fosse anche un problema di preparazione non sbagliata diversa rispetto a quella che sarebbe dovuta essere con un solito campionato normale se no che forse qualcosa è andato storto suppongo perché tu lo sprint lo dovevi avere adesso no però poi non lo so con le nazionali quello che si decide quello che non si decide non so come come siano messe cioè noi sappiamo e non sappiamo ecco esatto io ovviamente parlo per quello che so per il resto ragazzi miei ricordatevi sempre se ho detto tutto ho detto tutto fammi pensare un attimo sì ah un'altra cosa che volevo dire importante ieri sera ho visto poi la partita del Bayern contro il Barcellona risultato severo molto severo per il Barcellona perché meritava tranquillamente di stare in vantaggio almeno due o tre gol nel primo tempo poi il Bayern ovviamente ha dei giocatori che hanno un livello superiore a tutti e ti fanno ti fanno la differenza quindi se quando si dice che la Champions è la competizione dei dettagli perché si dice questo perché quando il Barcellona ha avuto le occasioni per poter far male al Bayern non lo ha fatto non ha sfruttato quelle due o tre occasioni che ha avuto nitide e quindi poi che succede sprapapam arrivano tutte dove non devono arrivare in quel posto lì dove non batte il sole quindi se non state attenti poi vi arriva tutto dove non batte il sole detto ciò adesso ho detto tutto ce la giochiamo con il Barcellona perché è chiaro bisogna vincere anche l'altra contro il Pilsen in casa ovviamente e poi ce la lottiamo col Barcellona io sono sempre super positiva incrocio le dita basterebbe anche una vittoria in casa e un pareggio da loro e tutto sommato se l'Inter sta bene fisicamente e mentalmente io credo che ce la possiamo lottare tranquillamente non sarà facile non sarà una passeggiata ma sicuramente l'Inter può l'Inter se vuole e se acquista può vi abbraccio fortissimo come se fossi lì mi raccomando se non avete messo il like Instagram Youtube Facebook TikTok andatelo a fare ricordatevi che io ho due profili per ogni cosa uno dove parlo di calcio uno dove parlo di tutt'altra cosa che è la mia passione quello che è stata la mia professione per anni quindi mi raccomando non confondete le due cose tanto si vede il profilo in cui parlo di calcio e il profilo in cui faccio altro quindi vi prego non commentate nell'altro le cose del calcio perché non c'entra una mazza ok allora di nuovo vi abbraccio forte come se fossi lì clic 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 condividi like iscrizione a tutte le pagine vi voglio bene ricordatevi sempre che la vostra lucri vi vuole bene e sempre 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 forza in terra ciao Grazie a tutti.